Start, 2, 1, Mystery Mission, and Liftoff! Parecchio, probabilmente fino a giugno 2025, ma forse anche dopo. Il gioco permette già di giocare e diverse features non sono ancora complete. Qui vivremo le esperienze di un nostro personaggio, che vedete che il mio è già pronto, in un mondo medievale, dove avremo modo di costruirci la casa, di sviluppare un po' come facevamo anche su giochi come Valheim, come Conan Exiles, e giochi simili, Shrouded se vogliamo, ma in modo massivo. Al momento non credo ci sia il PvP, ci saranno delle zone poi dove si potrà fare il PvP, ma al momento no, ci sono le gilde e soprattutto potete acquistare vari pacchetti. Voi acquistate il pacchetto base o il pacchetto founder. Il founder si divide tra artisan e master. Io ho l'artisan. Cosa cambia? Cambiano i plot, nel senso che se voi acquistate il pacchetto da 59€, avete due plot che potete riscattare nel mondo di gioco, e nel master ne avete quattro. Oltre a un tavolo in più da lavoro, quattro slot personaggio, con la versione base ne avete solo due, e sei con la master. e basta, ricette, qualche ricettina in più. Mentre con la master avete, ed è l'unica cosa che ha solo la master, la Viverna Building Set. La master, diciamo, costa 99, 100€. Iniziamo la partita. Io ho iniziato la partita unendomi a un server, unendomi a una gilda, la gilda di Katux, che è uno streamer che seguo ogni tanto. Non abbiamo avuto interazioni, nel senso che mi ha accolto in gilda, ci sono scambiati due messaggi in chat, e ho preso posto vicino a lui e vicino agli altri membri della gilda. Una delle peculiarità più belle di questo gioco è la grafica, perché la grafica è in Unreal Engine 5. È una grafica pesantissima, e se avete una schiera grafica di serie 4000, vi consiglierei di attivare il frame generator, che potrei attivare già su on e non mettere auto, in modo da avere un'immagine abbastanza fluida. Il gioco è ancora parecchio pesante, ma è bellissimo da vedere. Graficamente è uno spettacolo. Qua intanto calcolate che questa casa era la metà ieri sera. Io sono qui e al momento non ho niente, cioè ho costruito solo questo blocco qui e questi tavoli da lavoro. Qua abbiamo la possibilità di aprire lo storage, dove ci sono gli oggetti che ho raccolto. Qua c'è il founder. Se acquistate una versione founder, avete anche questo tavolo dove potete craftare queste decorazioni. C'è questo che ci consente di craftare roba. E la cosa interessante è che quando voi craftate vi dice anche il livello richiesto, perché ci sono, vi faccio vedere qui, i livelli di skill. Io sono a livello 3 di Carpentry e uno di Blacksmithing. E praticamente avete la possibilità di fallire il crafting. Vi esce una linea rossa e una linea blu. Se la rossa supera la metà, fallite. Se la blu supera la metà, riuscite. E credo che poi determinate anche, in base a quanto lunga è questa linea blu, la qualità dell'oggetto. Potete riparare anche gli oggetti. Qua c'è la fornace, che non ho ancora fatto, con la legna, il subwood, una incudine di pietra, dove è possibile fare, guardate quanti oggetti, e il tavolo. Tavolo dove posso craftare le varie cose. Mi piacerebbe fare lo stompycaxe. Mi servono delle pietre e dei leni. Cosa che andremo a fare immediatamente. Io spero lo vediate fluido, perché io so che ci sono tanti problemi a strimmarlo. E spero non ci siano a registrarlo. E stiamo scendendo la mappa, ecco. La mappa, voi potete scegliere il server e la regione. La regione ce ne sono 4 o 5. Quindi questa qui è solo una. Dove poi potete passare con dei portali alla regione successiva. E ogni regione ha questi plot. Allora, vi faccio vedere che io prendendo il martello vedo dov'è il mio plot, che è questo. Io ne ho due, quindi ne ho già posizionati due. Vedete che uno è qua e l'altro è su. E questo è il plot di quello sotto. E tutti gli altri che si vedono. Non è bellissima da lasciare attiva come visuale, ma vi dà un'idea di come si sta espandendo la gente. È un gioco che è in divenire. Infatti, quello che hanno detto anche gli sviluppatori è sappiate che il gioco non è pronto. Cioè è un early access. Sappiate che il gioco ha ancora dei problemi. Non è completo. E quindi sappiate cosa state andando ad acquistare. Ed effettivamente è così. Nel senso che è godibile. Io non so poi onestamente quanto ci sarà da giocare adesso. Perché da craftare ce n'è parecchio. Di edifici da fare ce ne sono. Oggetti ce ne sono. E soprattutto... Questa è una zona di qualcuno. E soprattutto ci sono comunque dungeon. Ma... Badate bene che il discorso del combat non è ancora ottimizzatissimo. Quindi ho detto, è un gioco in divenire. Poi analizziamo il fatto. È un azzardo aver rilasciato un early access di questo tipo? Assolutamente sì. Perché qua possiamo tagliare questi alberelli. Al momento io con l'ascia che ho, l'acetta che ho, posso tagliare solo questi. E tra l'altro da terra possiamo anche raccogliere i vari oggetti. Basta puntarli e li raccogliamo. Io sto cercando anche della pietra che non è la flint rock. Ma un altro tipo di pietra che forse flint rock. Beh io raccolgo. Vedete che poi in basso, dove c'è scritto tab, prima della barra degli strumenti. Quella che sto muovendo adesso con le lettere. Praticamente prima c'è lo zaino. E lo zaino vedete che si riempie man mano. E' pieno. Poi quando arriviamo al massimo siamo pieni. Non possiamo più prendere oggetti. Potete mettere le cose nel mondo così, senza avere il plot. Però ovviamente quelle possono essere distrutte. Il gioco sicuramente non innova assolutamente nulla. Ma, io vi dico onestamente, il colpo d'occhio è pazzesco. Solo che, se non avete una serie 4000 della NVIDIA. Potete giocare tranquillamente con una 3000. Se non stremmate, fate cose strane. E calcolate che dal dettaglio massimo al dettaglio basso, io adesso sono a... Non mi ricordo se basso. Cambia poco. Non c'è una grossa differenza. Io sono un patito che vuole vedere tutto al meglio. Ma non è quello il caso. Cioè non è questo il caso perché si vede bene lo stesso. Però il mondo è veramente figo. Ma veramente tanto bello. E mi ha ricordato per certi aspetti anche il Mortal Online. Che puntava comunque tutto sull'aspetto grafico. Ci sono dei rallentamenti quando arrivate in una zona nuova. O magari c'è tanta gente, ma è normale. Infatti adesso vedo, perché adesso ho scelto di avere il doppio schermo per questa registrazione. Per vedere se effettivamente il gioco si vede scattoso o meno. Mi sembra abbastanza fluido, ma non lo è. Perché poi io lo specifico, ma c'è sempre poi chi scrive. Eh, però si vede scattoso, fastidioso. Sono uscito, chiuso subito. Io faccio quello che posso. Queste sono cose molto importanti invece da raccogliere, che sono la clay, la argilla, perché è richiesta in diversi crafting. In realtà sto cercando tutt'altro, ma ho trovato l'argilla. Questo è il mio, forse questa è la pietra, no, flint rock, flint rock, questa. No. Mannaggia, dov'è la pietra che mi serve? Queste sono fibre. Sto raccogliendo un sacco di roba, che poi magari deposito. E come vedete, adesso qui non abbiamo ancora... Nice, ok, trovata. Sono queste rocce bianche. Voglio fare il piccone, perché voglio tornare qui e scavare. C'era, in giro, c'erano delle rocce. E ogni volta che craftate o trovate qualcosa di nuovo, vi compare un pop-up che vi comunica tutte le nuove ricette che avete trovato. Inoltre, nell'inventario, potete andare a activate, a mangiare delle cose. In questo caso io ho perso della vita. E praticamente mi avvia un pochino una sorta di buff. Lo vedete al centro, vedete il centro sopra la barra della vita. E praticamente sono delle cose un po' stile Valheim. Quindi potete... Adesso ho raccolto anche il coniglio. Anche questo. Perché potete... Red Apple. Quindi vado a prendere questa anche. Vedete che adesso ho due bonus e ne avete fino a tre. E questo è puramente preso da Valheim che ha introdotto questo sistema qui. L'acqua è meravigliosa, ma anche gli scorci, anche quando arriva la notte, ma soprattutto l'alba, quando il sole sorge e iniziate a vedere la luce rossa provenire da dietro le montagne. È qualcosa di assolutamente pazzesco da vedere. E ovviamente non è un gioco che potete giocare da soli. Adesso io mi sono unito alla gilda e il clan è questo qua. Non c'è connesso, se qualcuno c'è. Vedete che Katux è il... Il youtuber che ha invitato comunque gli iscritti a giocare. Per quanto adesso, vabbè, ho detto, ci sono da... Credo ci siano già i dungeon. Non è senz'altro un gioco per tutti. Questo certo, soprattutto se contate di giocare da soli, come può essere la mia mentalità. Perché non va bene. Si gioca cooperativamente. Mount non ne ho viste al momento. Quindi è un gioco in divenire. Forse mi azzarderei a dire che è uscito forse un po' presto. Però bellina questa casa. Perché vedete che ha fatto proprio anche la curva delle scale. Diamo un'occhiata per quanto scatticchi molto qui. E qua ho fatto... Ah, non è nulla di... E io sono qua. Allora, facciamo questo piccone. Anzi, devo fare... Allora, vado qua e faccio. Wood Longstock, craft. Vedete che aumenta la barra blu. Ce l'ho fatta. Vedete che aumenta anche la rossa, ma in realtà il crafting è fatto. E ne ho craftate 5. Me ne bastano 5, credo. Adesso dovrei chiudere questo. Vado qui e faccio il piccone. Stone Pickaxe, craft. Vedete che chiede il Carpentry 5. Speriamo di farcela. Inizia. Andata bene, andata bene, andata bene, andata benissimo. Fatto. Quindi praticamente io lo prendo e lo tascino qua sotto. E ho anche questo. Ora, andiamo a sbloccare quello che io posso fare. Cioè quello che... A scoprire cosa potrò craftare scavando le rocce. Quindi andiamo a vedere. Anche i rumori naturali. Le case sono molto belle da vedere. Però vi ho detto, è un gioco in divenire. È un gioco, ve lo dico. Dico il mio parere. Me l'ha mandato lo sviluppatore il gioco. Non me l'aspettavo, onestamente. Vi dico quello che penso. È un gioco ad altissimo rischio, questo. Rischio di chiusura. Ma non perché ne sia sfiduciato, eh. Perché il gioco è bello. Perché richiede tempo. E probabilmente i giocatori ora non hanno molta pazienza. I giocatori di oggi non hanno pazienza in generale. Ho finito la stamina. Ho già finito la stamina. Però se riesce a ritagliarsi una fetta di pubblico che sa aspettare e che lo ama già adesso... Perché io adesso non ho ancora visto molto. Bisognerebbe vederlo a livelli più avanzati. Quindi magari il gioco ha già immensi contenuti. Bisognerà vedere. Però voi dovreste valutare se quello che avete visto adesso vi può ispirare. Vediamo un po' se si può scavare anche questo o no. Vedete che qua colpisce come un pazzo. Non c'è niente da scavare. Vediamo. Abbiamo preso del flint. Questa l'avevamo già raccolta. Tantissima flint. E dell'impur or iron. Ok. Possiamo andare a vedere se si può fondere questa cosa. Voglio vedere se... Qui non c'è niente. Se si può scalare la montagna da qui. Ovviamente se morite lasciate sul posto tutto quello che avete. Quindi dovete tornare a riprenderlo. Ma qualcuno si è fatto la casa qua? Cavole a saperlo lo facevo io. Guardate che vista. E costruiscono anche sull'acqua. Salve. Questo è uno della gilda. Io premo invio e posso scrivere. Eh lui sa usare le emozioni o no. Ah era il mio amico qua. Allora. Old Barbaren. Sì uno un amico della gilda. Vediamo se posso fondere qualcosa. Mi sta seguendo. Mannaggia. Lui è già vestito molto bene. Craft item. No ho il charcoal e basta. Vediamo se vuole qualcosa. Vuoi un armor. Mi sblocco tutto pian piano. Tanto resto in zona. Ok. Allora ho preso il ferro. Ma onestamente non... Vedete che chiede Iron Sheet. No devo vedere se vedete perché poi aprendo il menu qui craft si possono craftare anche questi oggetti qua. Ma non solo perché andando qua. No scusate dov'è che era col martello. Perché c'è una meccanica che non è chiarissima ma lo capita subito. Andando col martello voi potete andare col tasto destro a rimuoverli e riposizionarli. I cerchi diciamo luminosi dove potete costruire del tutto protetto. Ma al tempo stesso avete delle costruzioni tra cui queste. che per farle ad esempio mi pare... Per farla vi serve una simple chest. Quindi voi dovete craftare a un tavolo una cassa semplice e poi usare lo storage da questo menu qui. E quindi mi venire da pensare che forse ci vuole qualcosa qua da piazzare. Vedete queste sono le cose che ho scoperto al momento. Le cose di crafting è il charcoal. Dovrei fare forse un po' di charcoal. Quindi vediamo se riesco ad abbattere ancora un po' di alberi e mi faccio anche il charcoal. Andando avanti di qua ho trovato dei lupi. L'esperienza non bellissima. Vedete questo è un albero troppo duro da buttare giù. Ok, questo sì, questo no, questo sì. Sono un po' pieno eh, a dire la verità. Quindi dovrei... Attenzione. Vediamo un po'. Ho preso un botto di questo. Flax Fiber. Che le fibre sono importanti. Nella vita. Ma che... Nei giochi di sopravvivenza. Allora, vediamo se riesco a farlo. Craft item. Charcoal. Craft item. Crafting time 20 minuti. Succedeva anche su... Su Valheim di dover aspettare. Ok, sta... Sì, ci metterà un po' a farla questa. Vediamo se c'è altro che posso fare. Stool. Lo sgabello. Lo stompy cacce l'ho appena fatto. Il tiny stool. Lo stro la paglia. Vedete che qua chiede hard. È difficile da fare con la fibra. Quindi io se lo faccio, vedete che sale la barra rossa. E me lo fallirà probabilmente. Salvo che questa barra non arrivi prima lì. Ce l'ho fatta invece. Ho fatto la paglia, ho sbloccato il letto e il letto semplice. Potrei andare avanti e provare a fare anche la torcia. Vediamo se c'è qualcosa che mi sblocca con la torcia. Sì, ce l'ho fatta. No, continuo a prendere comunque esperienza. Posso riparare le cose. Facciamo con le plank che avevo creatato prima anche un tavolo. Wooden wall shelf. No, non è un tavolo, è uno scaffale. Mannaggia. Vabbè, prendendo il martello io posso andare a fare un'altra base di costruzione. Questa che però mi mancano le linee ice che sono le pietre. Vedete, io posso andare a posizionarlo e piazzarle. Sceglierne anche l'altezza. Adesso non mi ricordo più come si faceva. Alta più la rotella. Che infatti vedete che potete fare di varie altezze. Quindi qui mettete la fondamenta per costruire la casa. E poi, come dicevo, ci sono i combattimenti. Io adesso sono un po' pieno. Dovrei depositare un po' nella cassa lì un po' di roba. Ovviamente questo video è dedicato a chi di voi magari è curioso, vuol vedere il gioco com'è. Cioè voleva sapere com'era il gioco. Ma anche, invito anche chi magari è il più esperto, che ci ha già fatto magari tante ore, di farmi sapere magari cosa mi è sfuggito. E' così che possiamo, in qualche modo, insomma, parlarne e vedere. Simple chest. Mi servono planks e wooden pegs. Allora, le plank. Vediamo se ce le ho, perché devo fare un'altra cassa. Le plank sì. E i pegs ce le ho. Ok, facciamo una cassa. Magari anche due. Posso farne due. Farne due. Questo ha il pelo. Ce l'abbiamo fatta. Ok. Prendo il martello. Vedete, col martello, tasto destro, e vado a mettere crafting props. Questo. E metto altre casse. Così che... Una. E due. Così iniziamo a dividere bene tutte le cose e mi libero un pochino l'inventario. Quindi io adesso butto dentro tutta la roba di legno. E anche questa qui. Questo cos'è? Sineo, che non so cosa sia. Questi. E sono ancora pienissimo. Devo buttare dentro tutte le fibre che ho trovato. Anzi, io dovrei craftare anche il focolare. Nice. Che non ho. Niente. Agilla, agilla, agilla. Mi sto svuotando, spero. Eh, un pochino sì. Paglia. Cos'è che pesa? Vedete che questo qua sta andando anche a male. La mela sta andando a male. Botto dentro questo, questo. Questi. Quelli che sono veramente DPU. Pappelli, no? Ok. Sono praticamente adesso mezzo vuoto. Inventory 4. Ok. E aumentando poi anche gli utensili potrò abbattere alberi più grossi. Tolgo questa modalità. Così, vediamo. Vi faccio vedere un attimino lo spettacolo che c'è qua. Di gioco. Di gioco. Andiamo a vedere un pochino le case prima di chiudere. È un progetto in divenire e speriamo che continui. Speriamo che venga supportato dai giocatori. Al momento su Steam c'è una valutazione nella media. E speriamo che piaccia, insomma. Speriamo che cresca. I numeri di giocatori sono tanti perché i server erano già belli pieni. Bisogna vedere tra una settimana e un mese quanti ce ne saranno. Sta già una casa bella finita. E calcolando il posto, vabbè, a me piacerebbe andare in un posto isolato dove non c'è nessuno. Però, prefigo. C'è la graficamente eccezionale. Qua. Open door. Mi sa che si è buggato. Open door. Ma si apre. Ok. Ecco, questa è un'altra cosa. Lui ha costruito, come ho fatto anch'io, su un terreno dove c'è un albero e c'è l'albero entrando. Però questo caccia una vista pazzesca. C'è qualcuno che sta battendo alberi là in fondo. Non vorrei mai farmi trovare in casa di un Gildanio, anche se comunque l'ha messa a lui, la porta ad aprire perché potete dare le autorizzazioni e probabilmente ha dato clan. Questa è un'altra bella casa, col piano di sopra. Con la vista. Bello, bello, bello. Carino. L'acqua è veramente molto bella. Old Barbarians. Ha scritto anche il nome del clan. Che bello. Che rumori sono. Eh, promette bene. Promette bene, senz'altro. Questo è un tavolo, una forgia. Dove io posso andare a craftare Iron Ingot. Sì, sono dei tavoli che non... Ecco, quello che mi domando è poi stare da vedere adesso fino a che punto ci si può spingere, nel senso che magari ci sono dungeon, magari si va a fare missioni con... missioni. Bisogna vedere come andare avanti. Sicuramente è un gioco che va ottimizzato, quindi se volete acquistare 39 euro, non sono tanti, è un finanziamento diciamo allo sviluppatore, però deve piacervi proprio il genere. Non è survival perché alla fine mangiate, avete dei bonus, ma se lo mangiate non succede nulla, però c'è la morte con la caduta a terra di tutti gli oggetti che avete. L'edito del personaggio è abbastanza basilare, perché ci sono alcune teste, alcune barbe, alcuni capelli, ma graficamente tutto il resto, l'ho già detto più volte, è veramente molto figo. Adesso, fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questo titolo, se vi è piaciuto, insomma, se pensavate di acquistarlo, se avete preso una decisione dopo aver visto questa piccola anteprima. Non costa poco, senz'altro, ma ci sta, comunque, perché ci sono i vari pacchetti, ovviamente è un progetto che va avanti se venderà magari qualche copia. Dunque, vedete che qua intanto sta lavorando, si è accesa la fornace e sta producendo questo charcoal. Quando l'avremo prodotto, probabilmente, adesso io rientrerò e troverò da craftare altre cose. È una cosa che potrebbe comunque crearmi anche un po' di dipendenza, perché a me piace molto entrare, craftare, fare varie cose. Ovviamente, tenete conto, ve lo dico, perché qui lo percepisco veramente tanto, è necessario la cooperazione con altri giocatori, quindi se siete dei solitari non va bene. Ok, con questo bellissimo panorama vi saluto, vi ringrazio e vi invito ancora una volta a lasciarmi un commento qua sotto. Alla prossima e ciao ciao!